Ben trovati con le notizie del Consiglio regionale, via libera dell'aula alla legge sul riordino delle autonomie, vediamo come cambieranno le funzioni delle province e quali settori invece passeranno in capo alla regione. Il servizio. Via libera in Consiglio regionale alla riforma delle autonomie, agricoltura, caccia e pesca vanno in capo alla regione. Per il 2015 Regione Lombardia assicura 205 milioni di euro alle province e garantisce anche il servizio di trasporto dei disabili. Forme particolari di autonomia sono riconosciute alla provincia di Sondrio. La città metropolitana di Milano mantiene le sue attuali competenze. Voto favorevole dei gruppi di maggioranza, astenuti PD e patto civico, contrario il Movimento 5 Stelle. Per la provincia di Sondrio e per i territori montani in particolare sono previste ulteriori disposizioni che danno via un percorso di autonomia e di autogoverno che poi dovrebbe costituire l'esempio a livello regionale. E questo è il primo passo verso una più vasta riforma di tutti gli enti locali, sia a livello comunale che anche sova provinciale, perché se passerà la riforma del titolo quinto, come ha annunciato anche il Premier entro l'estate, noi dovremmo rivalutare i vecchi confini delle province. In realtà di autonomia non si parla, si dà attuazione alla legge del Rio che per i titoli di giornale si votava di competenza le province, anzi le cancellava, invece qua le stiamo confermando, gli stiamo dando ancora 200 milioni di euro e quindi fondamentalmente è l'ennesima presa in giro per i cittadini. L'anno scorso per fare le funzioni delegate della regione, dal lavoro alla formazione, turismo all'ambiente, l'agricoltura, la regione complessivamente metteva a disposizione 214 milioni di euro, a cui si aggiungevano 50 milioni di euro messe dalle province. Oggi la regione ne dà 195, come si pensa di fare? Approvata maggioranza la legge sulla semplificazione, che interviene su diverse norme regionali. Sentiamo le novità nell'intervista con la relatrice del provvedimento. Si vanno a sburocratizzare, semplificare molte norme che toccano vari argomenti e si dà anche un po' più di trasparenza verso un processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ad esempio sono introdotte agevolazioni per i pagamenti cumulativi sul bollo auto, quindi una novità importante per i cittadini. Viene spostato al 31 dicembre 2016 il termine per installare i termoregolatori nei condomini, quindi ci si adegua la legge nazionale ed è prevista una sburocratizzazione per le imprese, le associazioni e gli enti per iscriversi negli albi regionali. Dopo la nomina via libera al Comitato Tecnico Scientifico di Supporto. Diventa così operativo in Lombardia il garante dell'infanzia. Per i prossimi cinque anni dovrà promuovere la cultura e la conoscenza dei diritti dei minori intervenendo in situazioni di discriminazione, sfruttamento e abbandono. Massimo Pagani, ex assessore al welfare della provincia di Milano, si è ufficialmente insediato nel suo ufficio di Palazzo Pirelli come nuovo e primo garante per l'infanzia e l'adolescenza. La Commissione Sanità, relatore Angelo Capelli, anche licenziato al regolamento che tra l'altro istituisce una commissione tecnica consultiva. Adesso ha tutti gli strumenti per iniziare ad operare, è stata prevista questa commissione che dovrà costituire un ausilio alla propria attività e occuparsi di tutti i temi che tipicamente sono oggetto di quest'ufficio. Siamo partiti pensando ovviamente a coinvolgere tutto il mondo e tutti i soggetti che si occupano di infanzia, ovviamente stiamo cominciando a ragionare e ad operare nel mondo delle criticità dei ragazzi, ma quello che vogliamo fare è anche occuparci di tutti gli altri. Grazie a un tavolo di confronto attivato dalla Regione, gli uffici postali in Lombardia destinati a chiudere dal 61 scendono a 46. I risultati ottenuti sono stati illustrati dal sottosegretario Nava davanti alle commissioni bilancio e attività produttive del Pirellone. Nava ha spiegato che la Lombardia è l'unica regione ad essere riuscita a portare a caso una revisione del piano che sul fronte chiusura ha salvato il 25% degli sportelli. Abbiamo limitato i danni, ha detto. Critici invece Lega Nord, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, secondo i quali la regione doveva ottenere di più. Chi visita Expo non ammira solo le architetture dei padiglioni delle varie nazioni, ma trova anche un considerevole numero di eventi e manifestazioni. Tra gli appuntamenti della settimana ricordiamo che lunedì 6 luglio nella sala conferenze si parla di nuova imprenditoria sociale, mentre nella sede di Identità Expo è protagonista la cucina vegana. Martedì 7 in programma la parata del National Day del Camerun. Il padiglione di Regione Lombardia organizza invece tutti i giorni, dalle 17 alle 18, degustazioni di vini e prodotti lombardi. Ricordiamo infine che il sabato e la domenica Expo chiude a mezzanotte. Questa era l'ultima notizia, ulteriori approfondimenti su lombardiacotidiano.com. Grazie per averci seguito, all'appuntamento e per la prossima settimana.